Rivisto di questo mese si apre con un approfondimento dedicato al turismo, con particolare attenzione ai giapponesi. Sottolente anche la missione della Commissione Parlamentare Antimafia nell'Imperiese, che ha portato alla ribalta nomi eccellenti del territorio, che va da 20 miglia fino al Savonese. Un'analisi dedicata al capoluogo ci porta poi a riflettere su come gli imperiesi sembra abbiano cancellato ogni forma di protesta, anche di fronte a scandali enormi, come quello del nuovo porto turistico, con l'amara considerazione che prevale ormai l'idea che ognuno si faccia gli affari suoi. Ad Albenga è invece in evidenza la ripresa turistica e culturale del centro storico e la rinascita dei Caruggi. Infine un promemoria per gli amanti del miglior amico dell'uomo, con un articolo dedicato al Quattro Zampe Day, in programma il 10 agosto a San Bernardo di Mendatica. Questo e molto altro su Rivisto, il mensile gratuito diretto da Daniele Lacorte, in tutte le edicole, e ora di nuovo anche in rete al sito rivistomagazin.it.